Donald Trump ha cambiato il responsabile della campagna presidenziale a pochi mesi dalle elezioni del 3 novembre, mentre viene criticato da più parti per i suoi tentennamenti di fronte alla crisi sanitaria e i suoi attacchi al famoso immunologo Anthony Fauci. Indebolito nei sondaggi e travagliato dalla crisi del coronavirus, Donald Trump ha annunciato un rimpasto della squadra responsabile della battaglia per la sua rielezione. L'ex e storico Brad Pascal, che è stato con me per molto tempo e ha guidato le nostre strategie digitali e statistiche, manterrà questo ruolo e sarà consulente senior della campagna, ha affermato Trump, di fatto silurando il capo della sua strategia. Sono lieto di annunciare che Bill Stephens è stato promosso alla posizione di direttore della campagna Trump, ha scritto il presidente USA in una dichiarazione pubblicata sui social media. Stephens era finora vice direttore della campagna. Stephens era finora